E' solo per un miracolo che sotto il cartongesso crollato questa mattina all'Umberto I non si sia trovata qualche persona. Tragedia sfiorata nel reparto di pediatria nocera inferiore. A causa del vento, così ritengono i vertici della struttura e della divisione specialistica, è venuta giù la controsoffittatura del pronto soccorso pediatrico. La stanza era fortunatamente vuota. Probabilmente la finestra lasciata socchiusa ha consentito al vento di insinuarsi in qualche crepa della struttura facendola crollare rovinosamente a terra. Le assi di ferro portanti, le lastre di cartongesso, i monitor fissati al soffitto, gli impianti sono tutti caduti sulle lettighe, il frigo con i medicinali, la bilancia per pesare neonati e le altre apparecchiature tecnologiche in dotazione al reparto. Una scena apocalittica. Pochi secondi prima nella stanza c'erano un'infermiera e un'addetta alle pulizie. Per loro solo grande spavento. Immediatamente i tecnici dell'ospedale si sono messi all'opera per accertare le cause del crollo, verificare l'intera struttura in cartongesso presente in tutto il reparto e limitare i disagi per gli utenti. Il primario Ignazio Franzese, in raccordo con il direttore sanitario Mario Salucci, ha disposto l'allocazione del pronto soccorso pediatrico in una stanza di degenza e la ridistribuzione dei posti letto. Per fortuna non ci sono stati problemi in quanto in quel momento non c'erano pazienti né tanto meno personale nella sala. Comunque cercheremo di ridurre al limite, al minimo i disagi in quanto spostiamo questa sala di assistenza iniziale, diciamo, di pronto soccorso in una sala di degenza. Cerchiamo di ridurre al minimo il disagio dei posti letti in quanto li distribuiamo momentaneamente nelle altre sale, nell'attesa che si fanno questi lavori di ripristino che pensi che richiederanno il minimo indispensabile di tempo. Disagi non ha assolutamente nessuno, anche perché noi spostando, le stanze sono capienti, quindi spostando magari una colletta in una stanza o un letto in un'altra stanza grande non ci saranno disagi né per chi verrà né per chi già è in reparto. Noi come direzione salitaria possiamo semplicemente predisporre quello che il primario desidera e fare in modo che l'utenza non abbia nulla di cui doversi dolere. Saranno fatti anche altri controlli per verificare che l'intera controsoffittatura sia agibile? Ma io ritengo che lo staff tecnico sia al lavoro per fare le verifiche opportune. Comunque, come giustamente ha detto prima il primario, niente di importante. Grazie a tutti.